salve a tutti ragazzi benvenuti in questo nuovo video oggi vi porto in un posto ragazzi di quelli da paura un posto magico ci troviamo a val bodengo in valtellina i ragazzi è un posto stupendo cioè siamo oltre i ragazzi è un posto stratosferico cioè magico poi non c'è nessuno perché comunque la stagione non sarebbe quella ideale però c'è un meteo incredibile che ci sono quasi 20 gradi e siamo ancora a marzo e infatti ci sono ancora tratti di neve cioè veramente fantastico qua ragazzi farò volare dj fpv perché è un posto che sembra fatto per lui sembra fatto posta per dj fpv e poi vedrete un po di natura qua terra tutto da istat 360 one air e ragazzi non riesco neanche a descrivervi quanto è bello questo posto adesso però con le immagini spero di riuscire a trasmettere velo spero di riuscire a farvi vedere realmente che meraviglia e che posto magico è questo ambiente con una natura incredibile e praticamente incontaminata ragazzi è fantastico quindi ragazzi se il video che andate a vedere dovesse piacervi lasciatemi un grosso pollice su seguitemi su instagram dove porto tantissimi spoiler anche delle location come questa dove vado a far volare i droni di quello che mi arriva da recensire tantissime cose arrivano su instagram sempre se vi va ragazzi iscrivetevi al mio canale telegram offerte per sostenere questo canale dove posto tantissimi coupon sconto riguardanti la tecnologia al mondo dei droni ma soprattutto ragazzi iscrivetevi a questo canale youtube per non perdere anche un video un volo una recensione un test un tutorial una novità ciao al prossimo video e adesso buona visione qui in val bodengo let's get out of here We don't need to hurry The road ahead is clear Let's follow the coast as far as it goes Or until we disappear That gives me an idea Let's get lost together Let's go chase that postcard Wish you were here whether Let's get lost together Cause if we don't I know that I won't be Ah, forse perché devo stare al passo di quello più veloce? Eh, mi sta di sì Quindi, chi è quello più veloce in questo momento? Io! Ah, tu! La strada là c'è ancora il ghiaccio E qua abbiamo dei resti di neve Strepitoso ragazzi Un posto stupendo Stupendo Ancora neve Guardate quanta neve là Bellissimo Fa un contrasto con tutto il resto della natura Che è veramente magico Davvero, davvero magico Peccato che ci sono tutti questi passaggi Che sarebbero dovuti essere dei piccoli ruscelli Pieni d'acqua Che poi sarebbero finiti in quel torrente Ma è tutto secco Quindi si attraversano solo le rocce Peccato L'altra parte non piove E' tantissimo Quindi E questo è il risultato Tra la nostra meta Mancano solo 10 minuti Corte terza E questo è il risultato E questo è il risultato Nel risultato E questo è il risultato Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.